Mister, oggi siamo alla terz'ultima giornata del campionato di eccellenza, le battute finali, arriva questo 2-2, un pareggio, un punto in più nella classifica, il pareggio è arrivato al 38esimo del secondo tempo. Sì, un pareggio sinceramente ci sta un po' stretto perché comunque il nostro obiettivo oggi era vincere per arrivare almeno al secondo posto in classifica, chiudere questo primo campionato nostro, il secondo posto sicuramente è una grande soddisfazione. Sì, purtroppo è arrivato questo pareggio, diciamo un primo tempo un poco non bello da parte nostra, però penso che nel secondo tempo meritavamo qualcosa di più e anche alla fine abbiamo avuto qualche occasione. Peccato, il pareggio da parte del Lanciano al 38esimo, 40esimo, abbiamo avuto anche su punizione all'ultimo momento un'occasione, anche se mi dicevano le ragazze che il gol del pareggio forse era di mano. Vabbè, comunque non è questo peccato perché sicuramente la vittoria ci avvicinava ancora di più al secondo posto. Sì, il Campobasso che questa stagione era anche una delle squadre esordienti, comunque come prima apparizione quest'anno siete nella parte sinistra della classifica, quindi rimane comunque un risultato importante. Sì, sì, sicuramente un risultato importante, ripeto, come ha detto lei, la prima esperienza in questo campionato come SS Campobasso, quindi sicuramente c'è soddisfazione da parte delle ragazze, da parte della società. Certo, l'obiettivo principale era quello di fare un buon campionato, però poi abbiamo perso dei punti durante tutto nel girone di ritorno, un peccato perché potevamo fare molto molto di più. Però, ripeto, diciamo come primo anno siamo abbastanza soddisfatti. Con Lorenzo Lannutti, dirigente collaboratore di Mister Di Paolo, oggi un 2-2 che possiamo dire era nell'aria perché anche nel primo tempo avevate giocato molto bene, era un peccato non aver segnato anche una rete, la rete del pareggio. Poi è arrivato al 38esimo questo 2-2 che, diciamo, porta a un punto importante nelle vostre tasche. Sì, innanzitutto buonasera, abbiamo fatto una buona partita, una buona gara, dispiace da un lato per il risultato perché secondo me potevamo meritare tre punti, soprattutto per quello visto e fatto nel primo tempo. Un po' di sfortuna, un po' di imprecisione, un po' troppa e addirittura chiudere il primo tempo in svantaggio diciamo che non eravamo felici. Sì, il secondo tempo c'è stata una buona reazione, ci siamo scoperti molto per cercare il pareggio e quindi di conseguenza abbiamo anche concesso svariate ripartenze agli avversari che al primo tempo avevano fatto un po' più fatica se non tiro in porta. Però sono soddisfatto della prestazione, considerando che siamo molto rimaneggiati, giochiamo con giocatori fuori posizione. A partire dalla porta sia lì davanti siamo contenti, insomma, io e il mister Di Paolo, siamo molto contenti. Sì, diciamo che oggi la catena di destra aveva stupito Farina Ferragalli, avevano dato parecchi problemi nel primo tempo, forse nel secondo erano un po' scariche fisicamente, però hanno portato molte volte la squadra in avanti. Sì, diciamo che abbiamo giocato soprattutto sulla destra perché di là abbiamo più gamba con Farina e Ferragalli come esterni di centrocampo e d'attacco, mentre dall'altro lato giocavamo più sull'inserimento sul cross dalla parte di Dovidio e Lanci. Il secondo tempo indubbiamente erano un po' stanche le ragazze, però ci siamo saputi adattare anche col sistema di gioco. Il secondo tempo di fatti abbiamo giocato piuttosto a sinistra e abbiamo fatto bene. Siamo contenti, la società anche per il punto, perché comunque con tutte le problematiche che abbiamo avuto quest'anno fa morale. Insomma, cerchiamo di chiudere nel migliore dei modi la stagione.